In questa puntata vi porteremo al Suns Royal Park, una raffinata location immersa in un matrimonio di colori, per vivere con noi atmosfere incantevoli e inimitabili. Dio mio, questo non ci voleva! Tu mi devi aiutare, io non so che devo fare! Ma anche gli imprevisti meno previsti e le più stravaganti soluzioni con cui la Wedding Haven, Carmela Carfora, esaudirà il sogno di un esigente sposa. Tutto questo ed altro ancora in Just Married. Sto andando in ufficio ad incontrare una ragazza che ho sentito a telefono e a dire il vero mi è sembrata molto stravagante. Andiamo! L'autorizzazione è la sposa? Salve! Il giorno è ben arrivata, Carmela Carfora. Io sono da mio. Prego, accumulatemi. Ok. Eccoci. Allora, ha pensato di coronare il suo sogno e come hai immaginato il tuo matrimonio, Rossanna? Allora, ho scelto il Suns Royal Park perché sono rimasta colpita per la struttura, in particolar modo per la struttura esterna perché immagino il mio matrimonio come un po' Alice nel Paese delle Meraviglie. Bene, ok. Hai qualche idea, hai magari già pensato ad un tema, qualcosa? Sì, io mi sono associata un po' al colore, il mio colore preferito che è il blu, quindi di conseguenza facendo un matrimonio ad agosto ho pensato il mare e quindi fare qualcosa di marino. io non sono d'accordo assolutamente con il blu e con il tema marino. Quando le propongo il tema marino, lei me lo boccia e niente, questa cosa mi ha spiazzata un po'. Io mi potrei divertire a proporti degli effetti speciali, degli effetti particolari dal punto di vista floreale, delle accoglienze particolari. Poi le parlo della danza del ventre e vi boccia anche quella. Ho pensato sinceramente di mettere qualche ballerina, qualche ballerina brasiliana o danzatrice del ventre. Sinceramente è inaudito immaginare di stare in una sala da ricevimento e avere all'altezza del tavolo questi sederi che sculettano delle brasiliane. La trovo francamente una cosa indelicata. No, Rossana, no. Non è adatto il tuo matrimonio. Non è adatto. No, no. A parte che sono proprio nude e credo che non è raffinato ed elegante. Di conseguenza mi sono detta, Rossana, o ti fidi o non ti fidi e quindi mi sono fidata. Sinceramente sono venuta qui con un'idea e adesso sto per andare via con tutta un'altra situazione. Però mi hanno parlato così bene di te che voglio fidarmi, sì. Come hai detto tu prima, dobbiamo fare un matrimonio che deve sorprendere prima me, poi gli ospiti e di conseguenza lo sposo. Non ce lo dimentichiamo. Bene, Rossana. Allora ci salutiamo e magari ci riaggiorniamo perché inizio a progettare un po' l'idea del tuo matrimonio. La mia famiglia opera nella ristorazione da ben cinque generazioni e in tanti anni abbiamo acquisito tanti segreti. Oggi ve ne rivelo uno, anzi due. Il primo è la scelta meticolosa delle materie prime e il secondo è avere un marito come il mio che si occupa di questo. È stato un piacere conoscerti. Bene, a presto, a presto. Dopo l'incontro con la sposa, la wedding event si mette subito al lavoro per definire gli elementi che trasformeranno la location nel fatidico paese delle meraviglie. Ho disegnato per Rossana una torta a quattro piani, abbastanza luminosa perché dall'abito sono arrivata alla torta. Et voilà! Dopo due settimane... Ad un certo punto mi chiama la sposa Rossana e ha una nuova idea da sottopormi. Carmela, scusami se sono ritornata. Io pensavo per il mio matrimonio, non so, qualcosa più di impatto, qualcosa di più particolare, qualcosa che mi ricordassi per tutta la vita. Senti, io ho già pensato diverse cose, però volendo potremmo fare qualcosa di spettacolare. che ti rimarrà per tutta la vita. Potremmo andare alla reggia di Caserta e fare un servizio fotografico all'interno della reggia. Ma tutto questo è possibile? Certo, con me hai il semaforo verde. Ah, diciamo che con te tutto è possibile. Non è tutto, ma quasi. Però Rossana, mi raccomando la puntualità, perché abbiamo organizzato un banchetto nuziale ricercatissimo. Ok, te lo garantisco. Se tu riesci a portarmi alla reggia, massima puntualità. Bene. Il giorno del ricevimento è giunto. Al Suns Royal Park lo staff lavora a carico di entusiasmo, ma anche di genuino senso del humorismo. Buongiorno a tutti! Buongiorno a tutti. Buongiorno, grande chef. Tutto bene? Tutto bene, signor. Siamo pronti per la cerimonia? Mi raccomando. Quando la sente arrivare il pasticcere si prepara ad una delle sue richieste sempre di grande impatto scenografico ma ancora di più laboriose. Buongiorno maestro. Buongiorno dottoressa. Allora, questa è la torta di Rossana e Alfonso. Abbiamo quattro piani, fondo bianco, con la fascia ed utilizziamo questa fascia tutta in svaroschini. Dopodiché la facciamo tutta capitone, semplicemente capitone. Che ci vuole? E praticamente ad ogni angolo attacchiamo uno svaroschino di questo, quindi su di un piano o tutti e quattro? No, dobbiamo farla uno, due, tre e quattro. Tutti questi diamantini? Sì, ma per voi è una passeggiata. Che ci vuole? Poi mi raccomando le rose. Anche? Le rose bianche. Le rose bianche. Che sono la vostra specialità. Come vedo, guardi, lei è bravissima, per cui non è un problema questo. Adesso ci terrei veramente ad avere tutto capitone. Tutto, avanti e indietro. Cioè, tutte le fasce capitone con diamantini. Passicciere, buon lavoro. Grazie. Buongiorno. Ma se mi è andata una parola, il capitone. L'abbiamo chiamato sempre tra punto, ma il capitone. Mi raccomando, metti i diamantini in ogni angolo. Eh, e viate per niente. Quattro piani e tessi diamantini. Ma ci ha tagliato una volta. E ci vuole troppo tempo. Poi non ne manca una torta, sono tre torte in una giornata che devo mettere. Possono solo i diamantini in quattro piani, va bene. Cioè, stanno pure queste quattro fiuga. Il pasticciere si lamentava dei tempi lunghi, perché quello che creo è sempre molto laborioso. Ma nella sostanza si lamenta, ma poi dopo realizza delle cose strepitose. La preparazione sembra andare avanti senza intoppi, sia per quanto riguarda l'aspetto culinario, che quello scenografico del ricevimento. Tuttavia, quando l'orologio segna le 18, il metri si rende conto che hanno accumulato un ritardo un tantino preoccupante. Di tutti i tavoli, ok? Andò, i piattini al pane, come li metti? Andò, come li metti i piattini al pane? Scusami. Si deve mettere così, lo prendo, quando si fa settare. Posca il suo piattino. Sì, così. Bello, delizio. Setia così. E il piattino al pane sopra. Va bene? I bianchi, la bianchi dove mettiamo la pittura. I piani? I piani? I piani? Ma come ti metti i piani? Scusami. Che ti la fanno i bianchi? E poi ti basci in la pasticceria, ci metti la cattamelletta da dentro e ti lasci la pasticceria. È importante che io venga a visionare ogni tanto, a vedere un po' come svolge la mise en place dei tavoli e tutto. Quindi bisogna fare un po' di ordine e accelerare un pochettino perché è tardi. Il matrimonio deve essere curatissimo come sempre. La prima cosa che voglio dirvi, andate a farvi subito la doccia e vi voglio profumatissimi. E poi, Matt, se mi consente, ho visto qualcosa che non ho gradito. Lei si è allontanato l'altra sera fidandosi di alcune persone qui presenti e non ho gradito alcuni passaggi. Io non voglio assolutamente che lei passi con il piatto sul capo dell'ospite. Cercheremo di non ripetere gli stessi errori. Raffaele, proprio al mio tavolo l'altra sera mi sono meravigliata di lei perché lei è un ragazzo veramente a posto, un ragazzo in gamba. Ma si è dimenticato di me? Cioè, addirittura me. Cioè, le faccio così paura che non mi serve neppure. Mi raccomando, non si dimentichi gli ospiti questa sera. Mi raccomando. Grazie e buon lavoro. A meno di due ore dall'arrivo degli sposi, la curiosità di vedere la scenografia prevista dalla wedding event divora anche la troupe. Ho immaginato di creare un'atmosfera fiabesca utilizzando una serie di candele che con la loro luce flebile, molto calda, saranno di grande impatto per gli ospiti. Man mano che la luce scende, il sole sembra togliere una maschera che nascondeva tutto il fascino della location. Ovunque si poggi lo sguardo, sembrano spuntare i colori fino a pochi istanti prima, invisibili. L'imponente Fontana prende vita, diventando l'attore protagonista della scena. Per il ricevimento di Rossana e Alfonso ho previsto qualcosa di spettacolare. Saranno accolti all'arco da trampolieri alati in abiti bianchi. Più la luce diventa flebile, più si percepisce quel sapore fiabesco tanto desiderato dalla sposa. Da 1 a 10 per me è infinito, cioè non ho... no, 10 no assolutamente. Per me e per le mie aspettative è super il 10. Abbiamo lasciato la sposa in partenza per la reggia di Caserta. Facciamo un passo indietro per verificare se è aggradito il regalo della dottoressa Carfo. I ambienti spettacolari della reggia hanno scioccato un tantino la sposa. Incredibile, non ci posso credere. Con i permessi di Carmela abbiamo potuto fare tantissime fotografie. Possiamo accedere a tutte le aree della reggia. Non appena siamo usciti dalla reggia è successo che... Li avevo raccomandato di essere puntuali e invece mi chiama... Signor, c'è stato un problema. Che problema? La macchina è lupata. Come non parte? No, non c'è stato niente da fare. Ma è durata? No, non c'è stato niente più da fare. La macchina non ha segnito... No, e come facciamo? Ma non ha segnito vita, non è colpa a me. Ho iniziato a pensare che eravamo disperati perché giustamente avevo promesso a Carmela che saremmo stati qui in tempo. Ma scusami, ma cosa è successo che questa macchina non parte? Io come faccio? Dimmelo adesso, io come faccio? L'avevo promesso a Carmela. L'unica cosa che potevo fare è telefonarla e vedere se riusciva a risolvermi il problema. Mi chiama disperata dicendomi che non poteva essere puntuale al ricevimento. Pronto Carmela? Ciao, senti, ascoltami, qui abbiamo un grosso problema. No... È arrivato l'autista, mi ha detto che la macchina non parte, io non so come devo fare. Dio mio, questo non ci voleva, non ci voleva proprio. Lui ha detto che ha fatto di tutto e non siamo riusciti comunque a capire quale fosse questo problema. No, allora Carmela, no, tu mi devi aiutare, io non so che devo fare. Non ti preoccupare, la situazione la risolvo io, stai tranquilla. Lei mi dice che mi risolve il problema. Avevo 30 secondi per trovare la soluzione. E visto che quando bisogna risolvere in modo veloce ed arrivare velocemente in un posto, si pensa alla Ferrari, io ho detto allora prendo una Ferrari. E dopo pochi minuti arriva una persona con un Ferrari e in quel momento nella mia testa è partita quella cosa di dire ma non è che Carmela mi manda la Ferrari? C'è chi si sposa a cavallo e chi invece lo fa col cavallino. La sposa voleva un'entrata a cavallo. Beh, con questa soluzione è arrivata sul cavallino. Augurissimi, augurissimi. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Che bello. Augurissimi, augurissimi. Grazie. Solo un attimino stiamo preparando il vostro ingresso. Dall'altra parte della location, nel frattempo, si completano gli ultimi ritocchi per aggiungere alla magia dei colori anche quella dei sapori. Pochi minuti e gli sposi entrano puntuali scoprendo la prima sorpresa della serata. Vedendo quei trampolieri all'inizio non capivo neanche cosa avessero addosso. Poi ho scoperto che erano dei led, con tutte quelle luci. A me sono piaciuti tantissimo. No, anche a me. È stata veramente una bellissima sorpresa e un'accoglienza frizzante. E dopo aver degustato le portate del buffet, tutti a sedere per godersi l'incantevole atmosfera che la wedding event ha ideato per il ricevimento. Alla gioia per i colori segue quella del gusto. Ad aprire le danze dei sapori, un primo piatto di fettucce al nero di seppia, che lasciamo giudicare ad alcuni invitati presi a caso. Buonissimo. La cosa è molto buona, no? No, io adoro il mare. Ho visto tanti anni in Sicilia e qui si sente il sapore del mare in ogni piatto. Assolutamente sublime. A metà della serata, lo staff prepara la strada per la seconda esibizione prevista dalla wedding event, la cui protagonista attende con trepidazione dietro l'arco attraverso cui farà il suo ingresso trionfale. Ho immaginato di subire gli ospiti con una danzatrice che alterna la danza al violino all'interno di una sfera, anch'essa è illuminata a led. L'ingresso della danzatrice toglie la parola agli invitati e il fiato alla sposa, che rimane letteralmente a bocca aperta. Quella è stata una magnifica sorpresa perché non ce l'aspettavamo. Gli invitati si accalcano tutti sul balcone per apprezzare dall'alto l'elegante danza accompagnata dalle note del violino, una poesia per gli occhi e le orecchie. Gli invitati a curare gli ospiti con un poesia per gli occhi e le orecchie. E' stata una bellissima sorpresa, molto elegante, molto raffinata, datta proprio al tipo di cerimonia. E' creata una bellissima atmosfera. Atmosfera, colori, sapori tipicamente campani ottenuti con ingredienti rigorosamente selezionati e una valanga di risate ci fanno capire che la wedding event ha colpito nel segno. E dopo essersi sbizzarriti in stravaganti fotografie, sposi e invitati si spostano nell'angolo più dolce della location. Ho disegnato per Rossana una torta a quattro piani, abbastanza luminosa perché dall'abito sono arrivata la torta. Vi ricorda qualcosa? Non siete anche voi curiosi di sapere cosa pensano gli sposi della torta? Sembrava un secondo vestito. Lui va subito a sodo. Io guardo l'estetica e possiamo dire che è stato un secondo vestito perché era proprio abbinata al mio abito da sposa. L'atmosfera ideata dalla dottoressa Carfora ci stupisce ancora. Ogni particolare del ricevimento, dall'accoglienza ai fuochi, è stato concepito con la massima raffinatezza. Al taglio della torta farò una sorpresa a Rossana. Ho scelto dei fuochi particolari, molto molto belli, perché i fuochi che scelgo non sono banali. Sono tutti in oro, che creeranno degli effetti spettacolari, dei ventagli. E come darle torto. La serata è quasi finita, ma il ricordo sarà difficile da cancellare e non solo per gli sposi. La perfezione è un'utopia, alla quale non ci si arriverà mai, però voglio dire che qui ci siamo andati molto vicini.